Ma noi siamo ottimisti, fiduciosi e pronti al grande lavoro che ci aspetta. Pensiamo di avere per farlo la migliore guida possibile. Presidente, non me ne voglia, io ho sentito paragonarla a Ronaldo, ho sentito paragonarla a Baggio. Adesso lei mi consentirà, visto che conosco anche qual è la sua fede calcistica, che abbiamo in casa nostra qualcuno, un gran capitano che lo è stato e lo sarà sempre, al quale riconosciamo lungimiranza, intelligenza, precisione nei passaggi e che molto più a casa nostra, almeno per quanto mi riguarda, preferisco se proprio dobbiamo stare in questa metafora, accostarla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.